10 positivi in un solo giorno d'ospedaletto dal Pinolo. Si tratta di un nucleo familiare tutte persone asintomatiche. Il sindaco Antonio Saggese precisa che a seguito della positività dei componenti delle due famiglie sono state poste in isolamento altre 20 persone, cosiddetti contatti diretti dei positivi. Il focolaio familiare potrebbe essere nato in seguito ad un pranzo domenicale. Altri 11 casi covid a Cervinara dove torna la paura e il sindaco Caterina Lengua, ancora positiva, chiede uno screening per le scuole. Tra gli 11 positivi anche se l'ASL ne ha comunicati solo due, ci sono anche bambini e ragazzi che frequentano la scuola. Positiva una bambina della scuola dell'infanzia della frazione Valle che oggi in via precauzionale è rimasta chiusa, anche se la piccola era assente dallo scorso lunedì. Un bambino dell'elementario, un ragazzino della scuola media e due studenti delle superiori. I positivi comunicati dall'ASL sono complessivamente 40. 6 residenti ad Atripalda, 4 Avellino, 2 a Candida, 2 a Cervinara, 2 a Forino, 3 a Friggento, 3 a Grotta Minarda, un residente nel comune di Grottolella, 1 a Monteforte, 1 a Montefusco, 10 residenti nel comune di Ospedaletto, un residente a Rotondi, 2 a San Martino Valle Caudina, 1 a San Michele di Serino, 4 a San Potito Ultra, 2 a Sturno, 1 a Taurasi. Aumenta il numero dei comuni irpini dove si registra almeno un caso Covid. Attualmente infatti sono 99 su 118 e sono sempre di più i comuni che entrano per la prima volta nel triste elenco. Il caso di Montefusco è Grottolella, mentre l'Ospedaletto durante il periodo di pandemia aveva registrato un solo caso positivo. Il virus in Irpinia, come nel resto del paese, avanza e arriva anche nei territori che erano Covid-free.